Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Flavio Insinna, sapete con chi stava prima di incontrare Adriana Riccio? Lei è una donna bellissima che ha fatto girare la testa a tanti uomini Ve la presentiamo.Flavio Insinna.Insinna è stato legato per tanti anni ad una donna molto famosa La conoscete? È di una bellezza stratosferica. Ecco di chi si tratta Flavio Insinna, il re del piccolo schermo.Tra i conduttori più amati del piccolo schermo non possiamo non menzionare Flavio Insinna Il presentatore dell'eredità, bazzica in televisione da tanti anni e sempre, possiamo aggiungere con certezza, con grande successo Insinna.I fan sono affezionatissimi a lui e continuano a seguirlo con grande affetto ed entusiasmo Insinna ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissimo Dopo un periodo di formazione teatrale, si aprono per lui le porte della televisione È stato il volto noto di programmi celebri della RAI come Affari tuoi e il pranzo è servito ma si è dedicato anche alla recitazione Ha partecipato infatti a fiction importanti come Don Matteo e ho sposato uno sbirro Per tanti anni è stato legato sentimentalmente ad una donna molto importante che ha fatto girare la testa a tanti uomini L'avete mai vista? Chi è l'ex fidanzata del famoso conduttore RAI? Flavio Insinna è sempre stato un uomo molto riservato Spigliato ed estroverso in televisione ha cercato di mantenere, invece, un profilo sempre piuttosto basso lontano dal piccolo schermo Flavio Insinna.Attualmente è in coppia con Adriana Riccio, una donna che ha conosciuto quando presentava la trasmissione RAI, Affari tuoi Prima di lei, nel suo cuore c'era un'altra donna molto bella e famosa Sapete di chi si tratta? Il suo nome è Maria Grazia Dragani.Maria Grazia Dragani L'ex fidanzata di Flavio Insinna è una famosa giornalista e autrice televisiva I due sono stati insieme davvero tanti anni e stavano pensando anche di convolare a nozze Addirittura, erano state esposte le pubblicazioni ma da un giorno all'altro non se ne è fatto più nulla Ancora oggi non si sa cosa sia realmente successo tra i due Flavio Insinna non ha mai voluto parlare di Maria Grazia Dragani che ha rappresentato, sicuramente, una persona importante nella sua vita Lei è una donna molto bella, colta ed intelligente. Si sono conosciuti dietro le quinte di un programma RAI ed è stato un colpo di fulmine Ora però Maria Grazia è acqua passata, Flavio è felice con Adriana Riccio che è una sportiva nonché presidente di un'associazione femminile che si occupa di fare prevenzione e informazione per malattie oncologiche come il tumore al seno Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video